Sarà la nota attrice Francesca Reggiani con lo spettacolo Tutto quello che le donne non dicono a portarci nell'universo femminile con un po' di ironia. Il spettacolo è stato organizzato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo in occasione della Festa della Donna. È in calendario il prossimo 10 di marzo al Teatro Petrarca con ingresso gratuito. Abbiamo realizzato numerosi eventi nell'anno passato e abbiamo realizzato questi eventi sia al Teatro Petrarca che al Pietro Arettino. Tutti hanno avuto il tutto esaurito. Questi eventi sono stati poi riportati alle scuole di ogni ordine grado. Abbiamo cercato di sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere e soprattutto rivolgendosi ai giovani, ai giovani già dai primi anni di scuola. Infatti il primo bando è stato riservato agli studenti delle scuole medie. Quest'anno abbiamo pensato di rappresentare l'universo femminile con un po' di ironia e cercando appunto di alleggerire questo periodo così triste e faticoso che sembra che non abbia mai fine. Abbiamo appunto chiamato Francesca Reggiani che è un'attrice nota, un'attrice famosa, conosciuta e apprezzata anche a livello nazionale e lei appunto con la sua ironia rappresenterà l'universo femminile.